Al Forum di Asago di Milano l'Emporio Armani cancella la sconfitta e supplementari subita in gara 1 dei quarti di finale di Euroleague e riporta il conto nella serie in parità. Si riparte sulla falsa riga di gara 1, il Maccabi inserisce centine di preziosi sotto Caneltro con Alex Darius. Il 3 Milano prova a sfruttare il fattore Wallace, ma si affida come al solito e scuome in questo contropiede all'Hankford. O al miglior realizzatore di Euroleague, Daniel Fackett, che la manda a riposo sul più 5. Questa tripla nella ripresa Milano allunga fino a 9 lunghezze gli stacco, ma il Maccabi trova sempre la soluzione sotto Caneltro con Alex Darius. Chiude il match con 18 punti. La tremazia di Milano però non è mai in discussione quella tripla di Christian Kangur fa volare l'Emporio a più 15. Poi Hickman trova una giocata pazzesca, corcia a meno 12, stacco del Maccabi. Il giocatore del Maccabi risponde però con una freschezza atletica ed una potenza devastante. Carter Darius, miglior realizzatore dell'incontro con 17 punti. Sul più 15 per Milano, poi Hickman tra il turbo rubare questo pallone andando a schiacciare in solitaria. Nel tiro che scrive la parola fine sul match, cancellando i fantasmi di gara 1 lo trova il solito Hackett. Milano si pone 91 a 77. Ora la serie si è sposta a Tel Aviv dove l'Emporio dovrà cercare di vincere almeno una gara per accedere alle Final Four.